Chiede di seppellire l'ascia di guerra e soprattutto mettere fine alle battaglie giudiziarie il sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara che lancia un appello ai privati eredi della Casa della Podestà, la struttura situata nel centro della città e oggetto di un contenzioso legale. La struttura fu lasciata in eredità alla Cruce Rossa a un ente pubblico per farne una casa di riposo per anziani, ma trascurata dalle precedenti amministrazioni ha visto gli eredi poi rivalersi sul comune di Ponte Cagnano per riappropriarsi della casa e farne una struttura privata. Il sindaco Lanzara però, come ha fatto in altre occasioni, apre al dialogo e chiede di trovare un'intesa che possa restituire alla città un suo simbolo importante lasciando comunque spazio ai privati. Condivisione di intenti per il bene della città di Ponte Cagnano è il percorso tracciato e ribadito anche in un'intervista questa mattina dal primo cittadino. L'intenzione nostra resterà sempre quella di tutelare quell'edificio perché per noi è un edificio che ha una sua portata culturale, storica e quindi ci siamo sempre opposti all'ipotesi di abbattimento e di ricostruzione di un intervento privato di quel tipo. Per fortuna la notizia di qualche giorno fa è stata quella che il Tar da questo punto di vista ha dato ragione agli uffici, quindi ha annullato quel ricorso che è stato fatto dai privati e ha in qualche modo salvato quello che era il procedimento di revoca di un permesso di costruire appunto che era stato presentato con la precedente amministrazione e che a noi non andava giù nel senso che quello è un immobile da salvaguardare e da tutelare. Rispetto a questo tema noi ovviamente abbiamo già dimostrato anche con tanti interventi in città che c'è un dialogo assolutamente propositivo con i privati quando i privati vogliono dialogare e quindi non... Il cinema nuovo insomma. Sì, il cinema nuovo ad esempio ha lasciato alla città, lascerà alla città l'intero piano terra che sarà comunque ceduto ai ragazzi e giovani per una sala multimediale, per fare cultura, per fare teatro, quindi è un modo quello per dialogare con il privato quando, ripeto, il dialogo è propositivo, anche perché poi abbiamo dimostrato già in tanti casi che quando invece si va a ricorrere al Tarre il comune la vince sempre. Leggo tra le righe, Sinaco sta lanciando un appello alla famiglia. Noi vogliamo che quella struttura venga restituita alla collettività insieme alla villa comunale, quindi a quella villa che è dietro. Ovviamente siamo disponibili a dialogare con il privato per trovare una soluzione diciamo che di compromesso che metta insieme gli interessi innanzitutto della collettività e gli interessi anche dei privati. Però è necessario attivare rapidamente questo dialogo perché siamo già in estremo ritardo rispetto a questo tema. La che ipotesi ha come riqualificazione di quello spazio? Beh io credo che quello possa essere diciamo una struttura, la vera villa comunale che la città di Ponte Cagnano-Faiano non ha mai avuto, quindi una vera e propria villa comunale da restituire alla città per gli eventi, per fare le iniziative istituzionali, per convegni. E poi io penso che con il tema e la sfida importante che abbiamo per l'aeroporto, quindi il PUC, il piano regolatore, il master plan è importantissimo un dialogo che ci sia un dialogo propositivo con i privati. Però abbiamo dimostrato in questi anni che questo dialogo deve partire necessariamente da quello che serve alla città. Noi lo abbiamo detto in campagna elettorale e continuiamo a dirlo, questa città deve essere guardata, la dobbiamo guardare con gli occhi dei bambini, delle mamme, degli anziani, quindi guardare a quelle che sono le reali necessità, esigenze dei cittadini e su questo ovviamente anche le iniziative dei privati possono essere un contributo importante per rafforzare e evolvere questa città.